Le cose che sono cambiate, la pettinatura, la forma del viso, l'intensità del sentimento, gli abiti, il mondo intorno, tutte le cose che avete deciso di non dirvi, quelle a cui non avete fatto più caso, la stranezza di essere vivi, i giorni qualunque, le insondabili ragioni che vi hanno permesso di essere qui, di esistere, di ricevere amore, le insondabili ragioni che ci hanno permesso di essere qui, di esistere, di ricevere amore, i vostri nonni, i vostri genitori, la memoria, le case, la polvere, tutto così povero, disperato, infinitamente tenace, i nostri nonni degli anni 2000 che hanno fatto la guerra e adesso curano i gerani sui davanzali, comprano obedi finti dai cinesi per Natale, oppure le badanti li tengono stretti rasente ai muri quando il vento soffia forte.